Riparte una proposta di impegno politico per la città di Agrigento che non è una proposta di tipo personale ma che vede il consenso, l'entusiasmo, la volontà soprattutto dei cittadini, di tante persone che ho incontrato in questi mesi, di quartieri, di territorio, di movimenti, di movimenti di mondo cattolico, di movimenti di mondo laico, di partiti politici che si vogliono mettere in discussione per offrire alla città di Agrigento una proposta politica. Una proposta politica che voglio fare con grande umiltà, con lo spirito di servizio con il quale ho sempre contraddistinto il mio impegno politico. Una proposta politica per ripartire insieme, per ricominciare rispetto a una stagione che è veramente difficile dove abbiamo bisogno del contributo di tutti, dove abbiamo bisogno di sentire tutti i cittadini, di sentire i giovani, di sentire i quartieri, di sentire gli anziani. Abbiamo bisogno insieme di ripartire e di ricostruire per ridare fiducia, per ridare una speranza a un territorio che in questi anni è stato come un territorio sopito, è stato come un territorio addormentato, nel quale è mancato il dibattito politico, nel quale anche le proposte di tipo politico sono state quasi nulle e in cui abbiamo lentamente assistito a un impoverimento di tipo economico, ma soprattutto a una mancanza di proposta progettuale per la nostra città. Come mai alla fine il partito Fratelli d'Italia si è defilato alla sua proposta di candidatura? Guardi, io penso che dobbiamo avere il rispetto, il rispetto ai partiti politici, di seguire il dibattito che hanno e dopo prendere atto di quello che sarà la proposta che faranno. Ognuno è libero all'interno del proprio partito di articolarsi come meglio crede. Noi intendiamo offrire alla città di Agrigento, e abbiamo ragionato in questi mesi anche con questo partito, rispetto a una proposta politica di governo che fosse la più sentita e soprattutto la migliore possibile per la città. Come intenderà catturare il voto degli indecisi? Attraverso un confronto, attraverso un incontro continuo con la città. Io ci ho messo la faccia sempre nel mio impegno politico. Nel mio impegno politico con la città di Agrigento ho sempre messo la faccia. Il mio rapporto politico con la città è stato da sempre un grande rapporto di amore. Anche quando ho commesso errori alla città mi sono sempre presentato con la mia faccia, ho chiesto il consenso. È il mio più grande atto di amore nei confronti di Agrigento e che ha anche dimostrato il mio non attaccamento alla poltrona. È stato quando, ingiustamente condannato, mi dimisi proprio perché non volevo che venisse leso minimamente il prestigio della città, nonostante sapessi che rispetto a quella vicenda io fossi completamente estraneo. Il mio senso di impegno politico è questo, è un segno di servizio nei confronti di Agrigento, è un segno di amore. Io ritengo che oggi ci siano tante energie, risorse, soprattutto persone che ancora vogliono impegnarsi con entusiasmo e compassione. Dobbiamo risvegliare in tanti altri questa fiducia, dobbiamo risvegliare in tanti altri questa capacità di rimanere in questa terra e volere in questa terra spendersi.